Buonasera a tutti, mi chiamo come detto Christian Eder, sono redattore di Vinum da 15 anni, responsabile per l'Italia. Per me è naturalmente un onore di essere qui, anche di parlare un po' della Germania. Sono austriaco e anche Vinum non è solo una rivista che si occupa del mercato tedesco di Germania, ma è una rivista che è nata in Svizzera, è numero uno in Svizzera e anche numero uno in Germania con due edizioni diversi. E anche questi tre mercati di lingua tedesca sono un po' diversi uno dall'altro. L'Austria conosco, noi siamo quasi autosufficienti. Come produttori di vino abbiamo buoni rossi, buoni bianchi. I svizzeri sono un buon mercato per vini di altissimo livello, di alta qualità, anche di alto prezzo, soprattutto dell'Italia. Forse la Germania è il mercato un po' di più difficile di questi tre, perché la Germania è un mercato dove ci sono alla fine due mercati. C'è un mercato per i vini di base, i vini di massa che sono anche venduti in bag in box. E poi c'è una buona distribuzione, un buon mercato anche per vini di qualità, vini in bottiglia, anche con un prezzo abbastanza alto di tutto il mondo. Naturalmente la Germania ha anche un certo amore per l'Italia. L'italianità, la dolce vita, i vini italiani sono molto amati dai tedeschi. E soprattutto i vini di qualità dell'Italia sono molto in crescita, secondo me anche in Germania. Perché anche questi due mercati di quali ho parlato, questo di massa e questo di qualità, sono due mercati in questo momento molto diversi. Non c'è la stessa clientela. Se il Montepulciano d'Abruzzo e i vini d'Abruzzo stanno puntando molto sul mercato di qualità, secondo me è il momento giusto di farlo. Un paio di anni fa ho anche parlato con un produttore molto famoso dell'Abruzzo, dei vini anche di Montepulciano d'Abruzzo, che è purtroppo scomparso. E lui mi ha detto in Italia, era dopo lo scandalo del Brunello, lui mi ha detto che in Italia ci sono due varietà di grande livello che sono tra i migliori del mondo. Questi sono il Nepiolo e il Montepulciano d'Abruzzo. Ma lui ha anche detto che il Montepulciano d'Abruzzo è forse ancora all'inizio della sua strada per diventare veramente un grande vino. Era 2008-2009 in quest'anno che abbiamo parlato e io ho visto ultimamente quando ho associato Montepulciano d'Abruzzo che la qualità è cresciuta molto negli ultimi anni e sta crescendo anche molto. Secondo me anche questo è un buon momento per il mercato tedesco, per andare sul mercato tedesco con questo nuovo vino, questo Montepulciano d'Abruzzo di altissima qualità fatto sempre di più buoni produttori, non più una piccola quantità di produttori che fanno veramente questa strada della qualità. E anche per la Germania con questo marchio che è abbastanza forte anche in Germania, Montepulciano d'Abruzzo, per il mercato tedesco è il momento giusto di essere presente. Per questo motivo anche i vini d'Abruzzo vanno alla Proven, alla Fiera di Düsseldorf, verso fine marzo. Stanno, fanno anche eventi con l'aiuto, credo, un po' di Vinum. Secondo me può diventare veramente un amore per l'eternità. Montepulciano d'Abruzzo e la Germania. Grazie mille.